E continuando con il informe, dopo un intercambio tra Camera di Commercio e il Ministro Ortmar Odiberri per il progetto hotelero di Bahia Principe e San Nicolás e il plan di gobierno per il desarrollo e parte per il Rive di Brugge, già sabrà il mandatario, con l'experto del Rive del Terreno di Cultura e il Tame Direttore di ATA, è riunito il rappresentante della Camera di Commercio per il lavoro di Rive del Terreno di San Nicolás. Camera di Commercio ha fatto una riunione per la conversazione e la disertazione che ha dato in prensa tanto di Camera di Commercio come Tame di Gobierno, dove è mandatario e infitano nel fin di settimana, praticamente, il turistituto che ha fatto una parte del plan di vision che non è arrivato a Rive di nostra isla. Abbiamo fatto due mesi a base di nostre richieste e abbiamo fatto il risultato di San Nicolás. Abbiamo fatto un'euro, un'euro informativo, abbiamo fatto un'euro informazione e abbiamo fatto un'euro di conversazione per il nostro porto. Il Plano di Commercio ha fatto un processo per più di due anni e mei. Intenzione per desarrollare parte di questa isla di due capitali turistiche di nostra isla con concentrazione, riba e aspecto cultural. Il mandatario ha invitato a tutte le entità di una o altre forma di apportare le visione. di un'euro informazione di un'euro informazione di un'euro informazione di un'euro informativo. per questo flujo di informazione che in un certo momento ci sono state sentite. A pensare di essere in buona volontà sicuramente che i nostri colleghi in un'euro informativo di un'euro informativo di un'euro informativo di un'euro informativo. ma sia in un'euro informativo Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Camera di Commercio mira che non si tratta di un plan spontaneo, però si tratta anche di un visione di tutto che stanno evolvendo per disarrollare l'area pari di Brugge, un visione di un plan che sta avanzando. La RUBI Investment Bank ha terminato il rapporto finale nel comissamento di marzo. La Camera di Commercio mira che non si tratta di un'area pari 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 di Brugge.